Prego, Norivole. Un premier di una Repubblica democratica, la Repubblica di Slovacca, una delle più giovani, nata nel 1993, una Repubblica che dal blocco orientale oggi fa parte con pieno diritto dell'Unione Europea, dell'Eurozona, della zona di Schengen, è membro Nato. Il premier Fico, un premier sicuramente che ha fatto dibattere l'Europa, ma ha fatto dibattere anche questo Parlamento, è stato colpito in modo vile. Un attentato che sciocca chiunque creda nei valori della democrazia. Ecco allora che di fronte a questo attentato, come già si sono espressi tutti i leader occidentali, credo che anche questo Parlamento debba prendere atto che quanto accaduto sia gravissimo. E come parlamentari italiani di questa democrazia, tra le più antiche d'Europa, dobbiamo dare l'esempio anche nel dibattito elettorale, quando magari non si riconosce l'avversario politico, oppure non si condividono le proprie idee, ma si deve mantenere comunque il rispetto delle altrui idee, senza mai trascendere in linguaggi violenti o addirittura comportamenti violenti inaccettabili per coloro i quali vogliono affrontare le regole della democrazia. Ecco perché anche un invito da questi banchi deve partire per affrontare le prossime elezioni e tutte le elezioni, tutte le campagne elettorali, nel rispetto democratico delle regole della democrazia, ma nel rispetto soprattutto dell'interlocutore che si ha di fronte, che rappresenta determinate idee. Ecco perché vogliamo invitare l'Aula a fare in modo che si abbassino i toni e che si condanni ogni gesto, ogni vile attentato, ogni vile attentato non soltanto alla persona ma anche ad ogni forma di democrazia e da questi banchi si inviti chiunque ad affrontare in modo pacifico, sereno, democratico ogni confronto politico. Grazie.